La stagione del mercatino delle meraviglie di Prelà anche quest'anno riparte a Pasqua. Il 27 marzo il programma prevede dalle 10 esposizioni di specialità locali e piemontesi e prodotti bio. Ci saranno inoltre bancarelle di usato, oggetti curiosi, vintage, collezionismo, dischi e abbigliamento. Non mancheranno esposizioni di artigianato e di oggetti artistici e i bimbi avranno uno spazio nel verde per esporre i loro oggetti da barattare o vendere e una zona dedicata interamente al gioco. La giornata sarà animata da flash mob spontanei e esibizioni divertenti con dischi in vinile. Dalle 14 prenderanno via le animazioni per i più piccoli e il trucca bimbi mentre i genitori potranno rilassarsi tra le bancarelle o nei locali del paese. La data successiva del mercatino delle meraviglie sarà domenica 15 maggio in corrispondenza con la consueta passeggiata Alta Valprino da gustare e da scoprire.